Si chiama George Skinner, è un uomo di 25 anni d'età. Avrebbe volato per un giorno intero per andare ad incontrare una fanciulla di minore età. La mamma di lei però avrebbe scoperto il tutto e lo avrebbe fermato commettendo un atto non proprio dei più belli, infatti gli avrebbe sparato addosso. L'uomo avrebbe viaggiato dalla Nuova Zelanda fino agli Stati Uniti d'America, da un capo all'altro del mondo, per andare ad incontrare una ragazzina di soli 14 anni d'età, che avrebbe conosciuto nel web, online, su internet. La mamma però gli avrebbe sparato, ripeto. Sembra che l'uomo non avesse delle intenzioni molto belle, molto rose, infatti avrebbe comprato uno spray al peperoncino, che avrebbe portato con sé, insegnato un coltello. Lo avrebbe sorpreso la mamma mentre provava ad entrare in casa, così, da come ci fa sapere l'indipendente, la mamma ha deciso di sparargli. Skinner avrebbe conosciuto la fanciulla in un sito di videogiochi online, dopo mesi di chat estenuanti, la ragazza avrebbe interrotto le conversazioni, ma questo non ha affermato l'uomo in questione dal volerla andare ad incontrare, e così avrebbe affrontato il grande viaggio, probabilmente con l'intento di andare ad abusare di lei a livello sessuale, intimo. La ragazza non voleva parlare più con lui, lo sapeva bene, ma comunque ha programmato un viaggio molto complesso, avrebbe detto così lo sceriffo della Contea. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, fare incontri non è un reato, non è un peccato, però a volte non si sa mai chi c'è dall'altra parte. L'importante quindi è rendersi conto che dall'altra parte dello schermo potrebbe esserci o una malintenzionata o un malintenzionato. Questo dunque sarebbe quanto, un saluto al prossimo video da Narratore Italiano.